Fagiani, pernici, starne e pavoni. Il parco di Villa Gentiloni è tornato a popolarsi di selvaggina che è stata liberata in occasione dell'originale ed esclusivo evento ideato dal vulcanico stilista filottranese Luca Paolo Rossi. Grazie al suo dalizio stretto con lo chef stellato Enrico Recanati è tornato a rivivere la tradizione del pranzo di caccia. Cornice dell'evento la splendida Villa Gentiloni a Filottrano dove lo stilista ha accolto personalità provenienti da tutta Italia. Un tempo quando mi affacciavo da casa di mia nonna trovavo tulipani e fagiani. Oggi se ne vedono veramente pochi. Allora la mia intenzione, quella di mia moglie Sonia con Pietro, abbiamo detto rilasciamo un po' di animali. La nostra intenzione oggi era questo. Poi Dio ci ha dato una giornata meravigliosa. Con l'occasione lo chef Enrico Recanati ha fatto un menù appositamente per la giornata e il binomio Luca Paolo Rossi, Enrico Recanati con Villa Gentiloni, poi in una location come Filottrano, questa collina, il colle di Filottrano, secondo me ha tutti i presupposti per far sì che sia una buona giornata. Io direi che la tradizione fa parte della cucina italiana e va sicuramente soltanto tutelata e difesa. Noi possiamo solo avvicinare le nostre esperienze, la nostra cultura per cercare di migliorare sia un pezzo di carne piuttosto che una pernicio o un colombaccio. Però la tradizione è fondamentale, senza la tradizione non ci può essere innovazione.